Ma è vero che è un peccato ricevere la comunione sulla mano? Cari amici dell'Indo al Caffè, buongiorno a tutti. Faccio riferimento a tante cose che si trovano scritte e una domanda esplicita che mi ha fatto Laura ai primi di novembre nella quale lei diceva ho letto oggi l'ennesimo commento in cui si diceva che la persona era contraria ai fedeli che continuano a comunicarsi sulla mano. Allora, è vero, questo non so perché è esploso recentemente e anche io mi sono trovato in qualche momento un po' nell'imbarazzo nel distribuire la comunione perché mi sono trovato delle persone che facevano delle strane sceneggiate davanti a ricevere l'Eucaristia che si mettevano in ginocchio con le mani giunte è un'esplosione di stupidità, lo dico sinceramente, ok? Allora, la Chiesa si è pronunciata ufficialmente su questo in un documento si è pronunciata con chiarezza sulla possibilità sulla possibilità di ricevere l'Eucaristia sulla mano e questo per svariate ragioni tra le quali l'unione con altre Chiese cristiane cattoliche dove questa pratica era già presente con l'unione in altre Chiese non cattoliche su alcune esigenze di salute la cosa si era fatta piuttosto urgente nel momento in cui era scoppiata la questione dell'AIDS e quindi non sapendo bene insomma comunque era stata affrontata in quella sede da un punto di vista teologico quindi non da un punto di vista sanitario ma recentemente si è ripresentata come esigenza proprio durante la pandemia ma incredibilmente la pandemia vissuta in quest'epoca dei social dove ognuno dice la sua strana fantasia ha scatenato tutta una serie di fantasie anche da parte di preti e persino di qualche vescovo sulla inopportunità e addirittura qualcuno che viene a dire che è un peccato ricevere la comunione sulla mano io davvero resto allibito davanti a queste cose perché si vuole che la Chiesa si pronunci e quando la Chiesa si pronunci non va bene perché si è pronunciata non secondo quello che penso io allora che ricevere l'Eucarestia non sia andare a mangiare dal McDonald's credo che questo sia evidente che ci voglia un atteggiamento rispettoso dell'atto sacro che si sta svolgendo del sacramento che si sta ricevendo questo è verissimo qualche volta mi è capitato durante magari non so il campeggio oppure all'oratorio estivo che un bambino venisse lì con le manine così gli dico ascolta su queste mani così lerce magari la mettiamo in bocca allora un conto è questo perché c'è un decoro che bisogna anche rendersi conto appunto come io non ti do un bacio se ho mangiato la cipolla e l'aglio insomma vabbè dico delle battute perché mi verrebbe qualcosa di un po' più piccante ma evito ma dall'altra parte dobbiamo renderci conto della ordinarietà nella quale si deve svolgere l'atto religioso cioè l'atto religioso l'atto sacramentale non è altro dalla vita ordinaria questo è importante perché c'è tutta una logica di una strana forma di chiesa che vuole vivere il sacro totalmente scollegato dal profano questo Gesù non l'ha fatto e se c'è stato proprio uno che ha reso sacro ciò che gli altri consideravano profano è stato proprio Gesù il quale andava a pranzo a cena andava nelle case e non chiedeva nemmeno ai suoi discepoli quegli atti di purità e tant'è che gli venivano contestati ma come? perché i tuoi discepoli non si lavano le mani? perché i tuoi discepoli mangiano e bevono? perché non digiunano? e Gesù ha delle risposte ferocissime ora a me piacerebbe dare anch'io delle risposte ferocissime a certi personaggi ma so che devo tenermi e quindi non do nessuna risposta feroce però io vi invito davvero almeno a voi che siete persone di un certo livello mentale di non scadere ricevere la comunione sulla mano è un atto sancito dalla Chiesa quindi totalmente siamo autorizzati a farlo tu senti che questa cosa dentro di te non ti piace tanto ecco non giudicare gli altri vuoi riceverlo sulle labbra lo ricevi sulle labbra semplicemente non alzi le mani in quel momento lì e il sacerdote te la consegna sulle labbra punto finita non ci sono discussioni non ci sono partiti non ci sono pensieri da fare una cosa che invece dico che Roberto mio fratello nella sua disabilità è molto più intelligente è che proprio la settimana scorsa siamo andati a messa e il sacerdote vedendo Roberto che veniva lì con le mani così ma vedendo che è una persona disabile gli ha detto no a te te la do sulle labbra e Roberto è rimasto scandalizzato da questo non tanto perché Roberto sa ricevere perfettamente la comunione sulle labbra ma quanto tutti la prendevano sulle mani e a lui gli era data sulle labbra ecco vedete questi cioè noi dobbiamo essere proprio attenti a queste cose visto che che siamo a una mensa di comunione bisogna cercarla la comunione e non cercare la distinzione c'è quella tizia che è venuta col velo sulla testa un'altra veletta e cose si è messa lì perché se l'eucarestia cadeva che sa cioè secondo me ha dei problemi psichiatrici oltre che di comunione con la comunità ecclesiale non vieni lì a fare queste scene per far vedere che tu sei migliore degli altri perché tu stai profanando l'eucarestia nel tuo atteggiamento anche se la ricevi sulle labbra certo è che se noi dovessimo decidere che in chiesa tutti insieme comunionalmente in comunione la riceviamo in un determinato modo tutti si fa così punto ecco mi piacerebbe che su questi adesso per rispondere a Laura che fra l'altro è anche insegnante di religione si insegnasse ai bambini ai ragazzi ai giovani che ciò che ci ha comunicato Gesù è stato proprio il suo corpo la sua vita che vuol dire il suo modo di vivere e se c'era un modo che andava a scardinare i vissuti religiosi era proprio quello di Gesù certamente è banale e sciocco colui che banalizza ed esse via l'eucarestia come fossero patatine dal sacchetto e questo no non stiamo facendo una spaghettata è sicuramente un atto sacro un atto sacramentale ma attenzione che se io nella difesa del sacro scandalizzo il fratello sto dissacrando ciò che volevo sacralizzare spero di essermi spiegato spero che si capisca ok? e se qualcuno ha qualche problema beh che me lo scriva sotto e se qualcuno vuole approfondire ancora meglio questo argomento magari andiamo a prendere insieme i testi ufficiali facciamolo e non c'è nessun problema va bene grazie Laura della domanda grazie a tutti voi e scrivetemi sotto i vostri commenti e ci vediamo al prossimo ciao ciao